Nell'area ex Italcementi, in una delle zone più degradate della città di Vibo Valencia, potrebbe sorgere il più grande parco del sud Italia. In che cosa consiste? La nostra intenzione è quella di farlo sorgere. L'area Italcementi è un'opportunità, non è un vincolo, nel senso che Iponium Venus Center realizzerà questo progetto su Vibo Marina. La nostra idea sarebbe quella di realizzarlo riprendendo l'area che in questo momento è dismessa di Italcementi, con i quali siamo in rapporto per l'acquisto del sito. È un grande progetto per la Calabria, un grande progetto per il territorio, lo abbiamo pensato come area di sviluppo polivalente, non sarà soltanto dedicata al turismo, ci sarà anche un'area dedicata al divertimento, ci sarà un'area a grandi eventi, ci sarà una fiera nautica, ci sarà tra l'altro l'Università del Turismo, prima esperienza in Calabria che nasce a Vibo Valenza. In più sarà un'occasione per il sviluppo e occupazione, perché stiamo parlando comunque di un grande intervento, di una proporzione enorme, 35 milioni di euro, che verranno spalmati sul territorio e sarà un'economia consistente per questa nostra terra che tanto ha bisogno. In questi casi le domande d'obbligo sono due. La prima è legata ai tempi di realizzazione e la seconda alla fattibilità del progetto. Guardi, allora dipenderà tutto da quello che sarà il sito, se il sito sarà quello di talcementi ovviamente noi interverremo, non dismettendo del tutto il sito, intanto c'è l'idea ovviamente di riprendere alcune strutture che sono di talcementi, ad esempio le due torri principali. Chiaramente se sarà lì i tempi saranno molto brevi. Nel piano industriale di Ginvestimenti ci sarà praticamente un intervento che prevede due anni, tre anni massimo di realizzazione, con degli step ovviamente per l'inaugurazione, cioè faremo dei lotti singoli per l'intervento e verranno inaugurati man mano che si realizzeranno. Tre anni di intervento in una terra dove in tre anni non si realizza praticamente nulla. In che modo sarà possibile? Lo so che dietro questo progetto c'è attualmente una certa diffidenza legata al fatto che un intervento di questa portata mai è stata realizzata nella nostra provincia e io credo mai è stata realizzata nella nostra regione. Perché Vibo Valencia? Perché Vibo Valencia rispetto alle altre province ha una potenzialità sul piano turistico enorme. Stiamo parlando della Costa degli Dei, stiamo parlando di un'area dove insistono quasi 10 milioni di presenze l'anno e quindi Vibo Valencia diventa ovviamente centro cardine del turismo regionale. I G Investimenti ha voluto intervenire su questo territorio perché Vibo Marina rispetto alle altre consorelle Pizzo, Tropea, non è stata ancora scritta sul piano turistico una pagina concreta. La pagina concreta sarà Iponium Venus. L'idea nasce ovviamente da quel famoso 2010 quando ci fu ovviamente I Talcementi che abbandonò Vibo Marina e allora se lei si ricorda io feci una proposta che era quella di rivisitazione legata proprio al turismo. 35 milioni di euro per far rinascere dal degrado nel quale attualmente si trova l'area Exit Alcementi di Vibo Marina. È un sogno o potrebbe trasformarsi davvero in realtà? Guardi, molto dipenderà dalla capacità del territorio di riuscire a compattarsi su un progetto di grandissima qualità. Io sono l'amministratore delegato di G Investimenti Group, un fondo di private equity specializzato. Tra l'altro abbiamo una divisione dedicata a infrastrutture nei paesi europei. Questo è il terzo progetto che finanziamo convintamente. Un progetto dove non posso non fare i complimenti al comitato Epileo Manual che si è costituito, locale, con grande determinazione. Mi ha portato sul tavolo un progetto che mi ha entusiasmato. I nostri reparti tecnici l'hanno sviluppato in termini anche economici. È un progetto che avrà un ritorno sia reddituale sia di indotto industriale veramente importante. Quindi non posso che sottolineare tre aspetti. Innanzitutto i 35 milioni nostri sono soltanto l'inizio di un investimento che complessivamente noi stimiamo essere circa 220-230 milioni per la realizzazione. È un progetto avveneristico. Mi auguro che il territorio abbia lo stesso entusiasmo che abbiamo provato noi nel vedere questa qualità di progettazione in un momento storico dove un mondo globalizzato cerca degli attrattori turistici nuovi. Noi siamo un gruppo che ha sede a Ginevra, quindi possiamo considerarci degli investitori stranieri. Questo è un progetto che ha attratto i nostri investimenti. Ritengo che la riconversione dell'aria e i talcementi, ma in generale la riconversione di aree non valorizzate di Vibo, perché per noi il singolo sito è più un dettaglio che il tutto, è il progetto. Noi finanziamo questo progetto che dal nostro punto di vista, posto nella costa degli dei, valorizzando ciò che è il patrimonio anche culturale, anche dell'industria culinaria, dell'eccellenza di un paese e di un'area fin troppo poco valorizzata e pubblicizzata, penso che possa portare sicuramente un vantaggio incredibile non solo alla Calabria, non solo a Vibo per ovvie ragioni, ma anche e soprattutto al rinnovamento dell'industria turistica in Italia che soffre di innovazione. E questo è un punto che secondo me vale per l'intera attrazione del turismo italiano che oggi soffre da concorrenza di paesi più aggressivi in termini di capacità di innovare anche a livello infrastrutturale. Scendendo nel concreto, dalla teoria alla prassi, quali saranno i prossimi passaggi? I prossimi passaggi sono la disponibilità dei soldi materialmente, non sostanzialmente, da parte del Comitato, l'avvio quindi di tutte le richieste autorizzative per quanto riguarda la progettazione e quindi un sistema di incontri sul territorio che attengono alle autorizzazioni edilizie. Quindi penso che la tempistica tra autorizzazioni e materiale esecuzione stiamo nell'intorno medio di 24-36 mesi considerando le normali frizioni burocratiche che in ogni paese e quindi anche in Italia il progetto è complesso, ha un impatto, ci sono diversi enti che devono esprimersi, verrà fatto comunque vicino al mare, quindi con tutta una serie di vincoli e di valutazioni che naturalmente tutti gli enti preposti devono fare. Lato nostro riteniamo che sia un progetto di vada fatto il primo possibile, anche in concomitanza col piano di investimenti del PNRR che prevede il picco di risorse intorno al 2024 in termini di investimenti e penso che un adeguamento infrastrutturale partendo da ciò che già c'è sarà poi l'ulteriore elemento di valorizzazione di un territorio che diventerà sempre più accessibile. Quali sono le condizioni per le quali il vostro gruppo mette sul piatto 35 milioni di euro? Noi facciamo valutazioni di ritorno economico sul lungo periodo, c'è un fondo infrastrutturale e la nostra divisione ragiona in relazione al rendimento che può avere un'opera di queste dimensioni nell'arco dei 30-50 anni. Sono opere quindi dove i capitali sono pazienti, dove c'è un ritorno che senza alcun dubbio ci vedrà soddisfatti tenendo presente quelli che sono i flussi turistici della Calabria, quelli che sono il potenziale dell'industria turistica della Calabria stessa e quelli che naturalmente sono la messa a regime che ritengono i 36-48 mesi possa avvenire di questo progetto, almeno parzialmente. Poi si arriverà a regime come tutte le cose, dobbiamo considerare che opere di queste dimensioni hanno dei tempi di messa a regime particolari. Noi facciamo un esempio, per arrivare a regime a Disney a Parigi sono avuti 12 anni per portarla a regime, quindi dall'inizio della costruzione a via fino a regime. Ora in questo caso siamo sicuramente nei 7-8 anni dell'arrivo a regime.